E' partito da Palazzo Zanga a Messina il tour elettorale di Cateno De Luca, il leader di Sicilia Vera candidato alla presidenza della regione. Partiamo da qui e non lo facciamo per caso. Ho amato questo palazzo ed è quello stesso amore che oggi mi spinge ad intraprendere il viaggio verso altre città, dice De Luca. Un viaggio che faremo alla luce del sole incontrando donne e uomini che vogliono essere protagonisti del cambiamento della nostra terra. Un viaggio per la Sicilia con una Volkswagen d'epoca che, afferma De Luca, rappresenta simbolicamente lo stuzzicadenti con il quale affronteremo i poteri forti. Le valigie in alto sono invece il simbolo del fallimento della politica che ha spinto tanti giovani a lasciare questa terra per cercare altrove un posto a sole. Noi, prosegue De Luca, rappresentiamo una vera alternativa al sistema politico e contiamo su quanti vorranno unirsi a noi in questo viaggio verso la liberazione della Sicilia. Ribadiamo ancora una volta che non scenderemo a compromessi, non ci saranno tavoli segreti e sedute spiritiche. Chi vorrà incontrarci lo farà alla luce del sole. Ma ecco le tappe del tour che toccherà anche Caltanissetta. Domani a Catania ritrovo Modica in Via Lapiana, nei pressi del Palazzo dell'Università. Venerdì 18 marzo sarà a Denna. Sabato 19 marzo a Caltanissetta in un bar di Piazza Garibaldi, dove esporrà i suoi programmi per tentare la scalata al palazzo più importante della regione.